Una giornata di studio, formazione, ma anche di convivialità. Tutto a misura di mare. Questo è stato il nome scelto per l'appuntamento organizzato a Villa Matarazzo, nel comune di Santa Maria di Castellabate, per celebrare le due aree marine protette del Cilento, inserite all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Due aree marine protette che sono un valore aggiunto per il parco, come ci ha spiegato Giuseppe Coccorullo, presidente dell'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Sicuramente un futuro per il parco all'inizio fosse stata vista come una limitazione, però secondo me con il passare degli anni piano piano i pescatori hanno capito che può essere una risorsa importante. Un nuovo progetto per la protezione e il ripristino degli ecosistemi acquatici, ha confermato Romano Gregorio, direttore del Parco Nazionale. Oggi abbiamo festeggiato la conclusione di questo progetto, abbiamo illustrato i risultati che abbiamo ottenuto, ma soprattutto abbiamo dimostrato di poter coinvolgere tutti gli operatori economici di questo fantastico mondo che ci ha dato dalle aree marine protette, con in primis i pescatori e a seguire tutti gli altri operatori economici. A finanziare il progetto la Regione Campania, ci ha detto di più Antonella Cammarano dell'Ufficio Pesca della Regione. Una parte dei numerosi progetti che la Regione Campania intende finanziare a favore delle aree marine protette, a favore della pesca, della sostenibilità della pesca e dei pescatori. Tanti progetti per questo mare, piani i cui risultati però sono tangibili, come sottolinea Giovanni Fulvio Russo, docente di ecologia dell'Università Partenope. Per ora non ha grande futuro e invece ci sarebbe bisogno di dare un futuro alle conoscenze, a quanto è depositato nella cultura locale dei pescatori della piccola pesca artigianale.